Bella teoria ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Ho appena finito di fare questa partita Ve la carico appena posso Perché è successo qualcosa di incredibile Io vi dico di lasciare 10 like per questo video Lancio questa sfida Tanto lo so che arriveremo un minimo 10 visualizzazioni Quindi per favore lasciate 10 like Ognuno che guarda questo video mette metta like Io vi lascio al video Non vi metto tagli a parte qualche volta Che magari sto fermo per curarmi così Io vi faccio iniziare questa partita E vi dico mettete un commento State seduti perché state assistendo a qualcosa di epico Che credo che nessuno ha mai fatto Almeno in Italia penso Godetevi il video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti